Quanti ladri sono venuti a scassinare la tua casa, la tua vita? Quanti pensieri malvagi nei confronti di Dio, nei confronti della tua vita sono entrati dalla finestra, non dalla porta principale, dissimulandosi, nascondendosi di notte, travestendosi? Quanti pensieri, quante idee sono entrate nel profondo della tua mente, del tuo cuore, infettando la tua vita, spingendoti a disprezzarti, a non amarti, a non sopportarti e di conseguenza a disprezzare, a non amare, a non accogliere, a respingere, a rifiutare la tua vita, la tua storia, la tua persona e stanno cercando di distruggere e di rubare tutto ciò che Dio sta facendo con te. Bene, tutti questi pensieri ti conducono a un pascolo, o ti conducono ad essere libero, questi pensieri ti conducono alla pace o ti conducono a mormonare di più, a disprezzarti di più, alla delusione più profonda? Se questi pensieri non ti conducono alla pace, allora vuol dire che questi pensieri sono dei pensieri che vengono a rubare, sono dei briganti, sono dei ladri. Ma proprio oggi, proprio in questo momento, arriva di nuovo alla tua vita il nostro Signore Gesù Cristo, il buon pastore, l'unico pastore della tua vita, l'unico che ti ama veramente. Arriva Cristo e passa attraverso la porta principale della tua vita, della tua persona, passa attraverso il tuo cuore, perché Lui stesso è la porta, cioè Lui stesso si è fatto una sola carne con te. Lui stesso oggi vuole venire a saziare veramente la tua vita. Lui è l'unico che è capace di portarti fuori, di strapparti da questi pensieri, di proteggerti da questi pensieri. Lui è l'unico nel quale tu puoi trovare davvero pascolo, tu puoi davvero trovare una realizzazione, la realizzazione della tua vita. Mi dirai, sì sì, ma Gesù Cristo sono tante belle parole, ma poi alla fine i fatti dove sono? Io continuo ad essere solo, io continuo ad essere frustrato, i miei progetti, i miei desideri continuano a non realizzarsi, la famiglia è un macello, non mi sono sposato ancora, non trovo quello che desidera veramente il mio cuore, non riesco a trovare pace, non riesco a trovare pascolo, e tu mi vieni ancora a parlare di pascolo, ancora mi vieni a parlare di Gesù Cristo, sì, vengo a parlarti molto concretamente di nostro Signore Gesù Cristo, perché il Signore di nostro Gesù Cristo non è un pensiero, non è un progetto, non è un ideale, il nostro Signore Gesù Cristo è realissimo, concretissimo, fatto di carne e di sangue, è vivo e si vuole unire a te. Il nostro Signore Gesù Cristo è l'amore che tu non hai, l'amore che tu stai cercando e desiderando, nei tuoi progetti, nei tuoi speranze, perché Gesù Cristo è l'unico che oggi, se tu veramente lo vuoi, ha il potere di farti passare dalla schiavitù a quel tuo progetto di vita, a una vita nuova, a una vita libera, viene a trasformare il tuo cuore, viene a trasformare te, perché Gesù Cristo è l'amore più concreto che tu possa sperimentare, l'amore che ti porta a vivere ogni istante della tua vita donandoti al lavoro, nelle piccole e grandi cose, in famiglia, ovunque, amando, 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 questo è quanto di più concreto c'è nella tua vita, questa è la tua vocazione, questa è la tua chiamata, questa è la tua felicità, amare oggi, perché se tu oggi puoi amare e dimenticare di te stesso, non devi aspettare nulla per essere felice, tu già oggi sei realizzato, già oggi la tua vita è compiuta e completa, perché già oggi tu puoi amare, ma puoi amare solo se Gesù Cristo è vivo dentro di te, per questo è quanto di più concreto, di più autentico c'è nella tua vita, i pensieri ti fanno solo del mare, rubano e ti lasciano distrutto, ma che cosa hai in cambio? Nulla, più distruzione, più sofferenza, perché sono pensieri di menzogna, Gesù Cristo è più forte dei pensieri e del demonio, Gesù Cristo oggi viene alla tua vita, lo vuoi? Allora mettiti in ginocchio, dici signore, vieni alla mia vita, che io possa amare, guarda signore, io rimetto tutto me stesso, tutta me stessa, i miei pensieri, i miei progetti, tutto quello che sto vivendo oggi, la mia casa, la rimetto nelle tue mani, tu dammi l'amore però, ti prego dammi l'amore, dammi che io possa veramente amare,